Disegniamo una civetta e il suo contesto. In questa lezione vediamo come disegnare questo bellissimo rapace notturno che non so a te ma io lo trovo veramente elegante e anche a questi occhi così espressivi, così profondi. È un animale che è veramente interessante e non lascia certo indifferenti. Infatti, come tu saprai bene, è considerato un animale sacro anche fin dall'antichità. L'hanno considerata la civetta l'animale che rappresenta la saggezza. Allora, quindi per disegnare la civetta prendiamo una matita, facciamo il solito processo di creare il nostro bellissimo bozzetto. Questa volta la cosa che voglio fare è proprio crearmi anche un pochino, vediamo, beh la cornice me la farò dopo in questo caso, sì, la facciamo dopo. Allora, perché la civetta, ti voglio proporre proprio una baby civetta, una piccola civetta, quindi come la facciamo? Innanzitutto andiamo a cercare di creare le sue forme, come tu ben sai, prendendo proprio spunto da, magari se hai un'immagine reale, io adesso sto andando un po' anche a fantasia, comunque tu quando hai un'immagine è sicuramente più semplice fare il tema del bozzetto. Comunque più o meno la testa della civetta è particolare perché si gira tantissimo su se stessa. Poi gli facciamo un bel panciotto, un bel petto, poi gli facciamo le sue alucce, che comunque andranno a comporre anche la sua, si uniranno alla parte alta. Qui c'è una luccia indietro, ecco, ben riposta, e poi me la alzo un attimo. E poi andiamo a creare proprio, immaginiamo di mettere anche le sue, un pochino alcuni dei suoi artigli, dei suoi, ecco, le sue zampette. Immaginiamo che questa civetta, e qua parliamo di contesto, no? Mettiamo la civetta nel suo contesto, che in questo caso è proprio sopra un albero, a cui vi traccio un ramo, ok? E dietro metteremo la luna, quindi faccio già questa luna un po' grande dietro. Ok, la civetta ha anche una coda, una coda particolare, molto bella, molto più mosa. Allora io faccio, guarda, faccio anche qua delle forme, sempre, vedi, queste sono le forme arrotondate con cui abbiamo visto, riusciamo a disegnare molto facilmente. Poi la civetta ha questa caratteristica di avere questi occhioni giganti, quindi ha praticamente due, come ti posso dire, due aree nella testa, con queste piumette bianche, dove si collocano i suoi due grandi occhioni. Quindi mi faccio un occhio di qua e poi mi traccio anche una linea, vedi, una linea panciuta e faccio anche l'altro occhietto, che in questo caso sarà tre quarti, quindi in un caso c'è un occhio più grande e l'altro. Poi andiamo a creare il suo bel beccuccio, piccolino, perché questa è una baby civetta, è una piccola civettina e vedi che poi tac e tic, tralala, ecco. Qua poi ha queste particolarità di avere delle piumette che vanno in alto, come se avesse delle sopracciglia che vanno in su. Questa è la sua testa, ecco che bene o male, a me fa troppo ridere, a me mi fa ridere questa civetta, perché è veramente tenera, ecco, vedi. Io voglio fare una civetta tenera, che ti piaccia anche a te, che ti faccia proprio tenerezza. Così, quando adesso vedrai le civette, se ti capiterà, perché non è facile, eh, vederle, sono degli animali notturni, ma sono bellissimi, ecco, vedi, eccola qua. Ok, bene, ora che abbiamo questa fantastica, questo bozzetto, io immagino che tu l'abbia fatto molto, molto, molto leggero, io uso la matita nera perché mi piace di più, andiamo proprio a, un pochino a rifinirlo, facendo la seconda fase, dopo il bozzetto, che come tu ormai saprai benissimo, è la definizione. Quindi adesso io mi vado proprio a prendere il mio foglio e con una linea vado un po' a tracciare quelli che secondo me sono i confini di questa civetta. Ecco qua, trac, vedi lì, vedi là. Qui gli facciamo questo becco che effettivamente è piccolino, ecco qua. Ecco qua. Vedi che alla fine in questa maniera noi andiamo un pochino a definire la sua... È troppo carina la civetta. Andiamo a definire proprio la sua forma, scegliendo la linea che ci piace di più. Quindi ora faccio così, poi vado un po' anche a fare delle... Io le chiamo le piume un po' sbuffo, ecco, vedi? Che partono, no? Perché lei ha questo petto tutto molto bello, molto piumettoso. E anche qua mi faccio la mia... Allora qua mi è successo che sia ingrigita, non so come mai. Ecco, poi qua, vedi, faccio una cosa. Le sue zampette hanno anche questi artigli, quindi me li vado proprio a fare, no? Un artiglio di qua e un artiglio di qua e la civetta non cadrà mai da questo... Da questo contesto. Ok. Vedi che qua ci sono delle piume, tin 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 tin. E qua, fun fun fun. E poi andiamo a fare anche questa parte un po' sotto, no? Abbiamo detto che facciamo una piuma centrale e poi magari una piumetta in questa maniera, ok? Ecco che vedi che ho tracciato un po' i confini. E poi dietro, quello che sarebbe il contesto, io voglio fare una grande luna. Adesso, sinceramente, quello che ti voglio proporre, eh? Di volta che facciamo una lezione ci buttiamo in qualche cosa. È proprio il fatto del contesto è proprio di creare, no? Creiamo anche un po' una cornice a questo nostro disegno. Parliamo del contesto e poi parliamo anche di un'altra cosa importante che è la firma della tua opera, la data, in modo da avere una tua... una cosa unica. ecco, vedi, questo è il suo tronchetto. E questa sarebbe la luna che mettiamo dietro. Ok? Quindi fin qua tutto va bene. Ora, lei ha anche questa... ha questa pupilla molto grande. Allora io adesso guarda cosa faccio. Le faccio questa pupillona molto molto grande e anche di qua mi vado a creare la sua pupilla nera. E poi guarda, qua metto un riflesso in alto perché i suoi occhi sono luminosi e umidi. Poi già con la matitina molto leggera tu puoi un pochino andare a riempire. Vedi? Adesso ti faccio... Ups! Ti faccio vedere meglio. Con la tua matita nera vai e riempi dentro questo... Questa civetta la salunga è molto saggia. Puoi anche dare dei nomi, prova a immaginare. Per me questa civetta si chiama Katie. Eccola qua. Guarda, già così per me questo disegno già mi dà abbastanza soddisfazione. Lo lascerei così. Mi piace una volta anche i disegni appena accennati. Questa è una luna. Vedi? Non so se tu hai mai guardato bene la luna. La luna ha queste chiazze, no? Ha anche... Addirittura se tu la guardi bene quando è piena ha addirittura una faccia. Io ti invito a guardare tanto tanto come tu ben sai. Allora adesso passiamo alla terza fase che è la colorazione. Quindi mi scelgo una paletta di colori me la metto qua a lato. Io diciamo che la civetta ha questi colori ha tutte le tonalità un po' sul beige anche il bianco quindi vedi faccio un po' di sfumature e poi anche questa tonalità un po' più rossiccia quindi questi sono un po' i suoi e poi anche una tonalità invece sono tutte gradazioni di marroni no? Vedi? Quindi tu puoi giocare proprio... Poi sinceramente i suoi occhi li voglio fare proprio gialli gialli e un arancione molto vivido quindi questi sono i colori degli occhi quegli altri sono i colori con cui realizzerò il suo bellissimo corpicino. Allora quindi per esempio andiamo a fare la parte diciamo intorno agli occhi ora io il bozzetto in teoria tu lo puoi anche cancellare oppure lo puoi lasciare io adesso lo diminisco la sua intensità per farti vedere la colorazione allora quello che puoi fare è veramente incominciare a fare proprio questa colorazione che è vedi dall'occhio va verso l'esterno anche un po' a tratti perché queste sono delle piumette che si aprono proprio dai suoi occhietti quindi poi vedrai che la faremo ancora meglio quindi questa parte è molto chiara del suo del suo occhietto quindi le andiamo proprio ad accennare vedi facendo proprio questo tratto che non è pieno e dà proprio la sensazione che ci sia un qualcosa che parte anche qua vedi qua posso calcare un po' ricordati il tema della pressione della matita e abbiamo fatto questa prima parte poi facciamo il suo corpo recuperando un po' la paletta qua e il suo corpo lo possiamo fare molto con questo colore molto leggero e io ti consiglio sempre i bordi di andare a farli un pochino più marcati ok poi qui lei ha delle piumette quindi tu puoi fare anche questa colorazione ha fatto come se fosse proprio ha fatto a piume fatta con dei semicerchi vedi questo da conferisce anche un aspetto se vogliamo artistico alla tua alla tua civetta poi vedi questa la parte della testa è di un colore leggermente più più marcato sempre io ti consiglio di fare leggera questa prima fase di colorazione dell'intero corpo perché poi come tu adesso ben saprai qua c'è un gatto io ho un gatto mentre ti sto parlando che sta che miagola e sempre se in tempo poi a scurire peraltro la civetta ha degli occhi che assomigliano molto a quelli del gatto allora ecco qua poi vedi qua di nuovo mi posso fare queste queste specie di vedi questo tratto un po' così te lo faccio vedere qua per fare proprio questo senso del suo petto tutto pieno di piume vedi che c'è un petto bello piumettoso ecco qua anche qua sotto noi possiamo andare a fare questa prima questa prima parte della colorazione quando tu fai animali quando fai soggetti quando fai qualsiasi cosa normalmente si cerca un po' una visione d'insieme quindi tu incominci e fai strato su strato prendendo scelte sempre basandoti anche su quello che stai vedendo e quello che vuoi trasmettere io voglio trasmettere tenerezza vedi che anche i colori sono proprio delle qua faccio delle piume anche con questi colori chiari prima metti i colori chiari qua parliamo proprio della colorazione prima metterai i colori chiari e poi via via andremo a ad aggiungere quelli più scuri ok dando ora io ti racconto una cosa quando tu per esempio metti i colori scuri dai un po' si dice profondità dai un po' di profondità alla tua opera e poi ricordati una cosa molto carina che se tu ti compri un'iposca puoi anche sopra al disegno aggiungere diciamo dei riflessi bianchi per dare dei punti luce al tuo animale ok ora andiamo sempre di più a fare delle a scurire un pochino quindi andiamo proprio a creare a creare delle delle altre sensazioni di io ho il gatto qua che vuole attenzione mentre disegno fa ridere si sente tradito probabilmente il gatto che disegna la civetta e non disegno lui ecco quando qui qui vedi per esempio è una cosa molto divertente che per fare le piccole piumette sulla testa tu puoi fare anche tanti trattini tutti vicini l'un all'altro vedi sempre rispettando quel famoso cerchio che c'è dietro ecco qua vedi questo modo che io ti propongo anche di colorare è abbastanza espressivo cioè fare un po' di scelte anche un po' marcate ogni tanto mettere delle sempre cerca quello che ti vedi qua faccio delle delle altre non esagero cioè ma ops magari cerco di fare proprio anche delle aree dove ci sono queste ecco vedi qua già incomincio a crearmi un po' delle ombreggiature ops ogni tanto qua mi passa la matita e per esempio qua mi vado a fare una specie di ombreggiatura qua dalla coda in modo da creare un effetto eccolo qua poi vedrai che col nero anche ora andiamo a prenderci un altro marrone un altro marrone sempre più scuro prendiamo questo qua ecco che vedi con questo già possiamo fare delle delle piccole no come delle non lo so come dirti una forma così delle virgolette no delle virgolette che vanno a dare questa sensazione oppure anche dei trattini così che vanno a dare proprio questa sensazione di piume di altri colori qui nella parte vicina agli occhi adesso io te la faccio vedere un po' meglio le faccio un po' più piccole ecco qua proprio all'inizio dove c'è l'occhietto queste piumette scure aumentano poi vedi qua magari me ne riprendo me ne faccio una o due magari anche qua me ne faccio una un po' grossa faccio una piumetta così ecco vedi e poi magari me ne faccio anche qualche d'una qua alla base dove ci sono le zampette del mio del mio gufetto qui vado un po' a recuperare la sua testolina e anche dove vedi ci sono magari i bordi cerco di di essere precisa di rifinirli e di fare questa ecco vedi qua vedi cerco di proprio di ops di dare di dargli un po' di espressività con queste linee un po' particolari poi vedi qua prendo questo marrone e mi vado a fare questa parte qua magari mi faccio una specie di area e poi delle linee che vanno sfumandosi qua ovviamente proprio la coda è in ombra anche qua è molto scura e vado proprio a creare questi effetti con altre tonalità qua puoi incominciare con questo marrone a lavorarti questa zona qua questa zona qua che dovrei lavorarti molto finemente con la matita facendo proprio delle come delle specie di una specie di reggera quindi puoi fare magari molto molto delicatamente puoi fare magari un po' di sfumature intorno all'occhio e poi da queste sfumature partono come dei piccoli raggi vedi è bello che siano un po' irregolari perché mi danno proprio la dimensione di di dinamicità un po' anche del disegno vedi ecco qua in questo caso fai bene quando fai queste righette devi fare devi avere magari la matita con una punta molto molto fine perché se la punta non è fine diventerà un po' difficile andare a creare queste sensazioni ok stessa cosa la puoi fare per esempio ecco per creare un contrasto tu prendi fai una una parte un po' marrone poi qua vedi andiamo un po' rifinire con queste lineette magari proprio qui facciamo delle altre lineette tutte vicine e così ci siamo proprio creati una una bellissima una bellissima un bellissimo principio di occhietti della tua vedi della nostra civetta volendo adesso ecco un colore che comunque ti serve ogni tanto sempre recuperare e tenere lì è il nero no perché col nero cosa fai beh per esempio puoi dare sempre puoi dare dei momenti dove fai per esempio un pochino definisci definisci la l'occhio poi vedi una cosa importante ecco adesso incominciamo proprio a fare l'occhio con questo nero lo incominciamo proprio a a dare un pochino un po' di rilevanza vedi anche intorno andiamo a definire e quando andiamo a fare queste piccole vedi queste questa sua parte ci sta che magari l'occhietto vedi possiamo anche proprio fare un principio anche un po' col nero in questa maniera diventa un po' più evidente il suo il suo occhio anche questo mi piace lasciarla ecco qua poi qui volendo puoi fare sempre un po' di sfumature anche qua per dare un pochino questa sensazione di di tridimensionalità vedi quando tu scurisci un pochino in alcune aree quello che accade è che il nostro che il nostro bel gufetto si risulta un po' più tracciato nel suo corpo ecco a volte anche dopo dei tratti un po' anche precisi e anche qua puoi fare queste queste come si può dire delle le penne sono ecco quindi qua col nero mi vado un attimo a fare questa area molto leggero quando molto leggero leggera anche qua mi vado un po' definire la parte alta col nero questo perché mi piace l'idea proprio che questo gufetto questa civetta tanto senti gli animali qua sembra che sia in mezzo a una foresta così ti cali meglio nella cosa qua adesso vado anche un po' definirmi un po' meglio col nero le le zampotte di questa civetta e magari perché no mi vado a mettere un pochino di colore qua non è necessario definire proprio alla perfezione tutto quanto cioè puoi anche lasciare delle aree un pochino tra virgolette non del tutto finite questo dipende un po' dalla sensazione che vuoi dare se lasci delle aree un pochino che sono quasi in via di definizione è proprio dalla sensazione del disegno ecco ok ora andiamo a fare i nostri occhi quindi prendiamo il giallo e lo facciamo sempre anche qua strati quindi la prima parte faccio tutta quanta la coloro con questo giallo ora questo è un giallo un po' uovo molto un giallo uovo un giallo molto chiaro io in realtà volevo metterci un giallo un pochino più scuro poi qui vedi puoi anche fare più gialli poi ti fai un'altra linea gialla sempre intorno in realtà proprio gli occhi del gufo sono molto gialli e poi puoi prendere sinceramente io me la farei tutta gialla perché è un po' più espressivo e poi ti prendi questo arancione e fai proprio una linea è proprio una linea arancione vicino alla pupilla molto sfumata vedi molto molto sfumata ti fai questa bella linea ok a questo punto noi riprendiamo il nostro nero e il nostro nero vedi lasciando proprio questo questo riflesso a questo punto veramente prova a tracciare bene bene i confini della sua pupilla e vai e qua puoi veramente calcare addirittura potresti farlo anche con un pennarello anche ci sono dei pennarelli acquarellabili molto belli ci sono tantissimi pennarelli cioè questa sarebbe anche una tecnica mista puoi combinare anche le matite con i pennarelli quindi poi qua mi vado a definire bene il suo occhietto anche qua in modo che i suoi occhi mi vengano fuori guarda qua che occhioni eh è proprio importante che gli occhi della civetta vengano vengano fuori poi ti puoi prendere sempre un altro un arancione un po' compatto e vai a farti il suo bel beccuccio anche qui siccome abbiamo un po' di tante confusione sulle sue piumette ti consiglio col nero di andare un pochino a marcare questa questa cosa ecco vedi io lo faccio sorridente cioè ha uno sguardo particolare questo bufo ecco qua allora io sinceramente per quanto riguarda il bufo mi reputo soddisfatta poi ovviamente tu puoi prendere un altro un'altra tonalità di marrone magari un po' più grigiastra una tonalità così e ti vai a colorare ti vai a colorare questo tronchetto questo ramo scusami questo ramo lo puoi anche colorare con questa tecnica che vedi è una tecnica abbastanza abbastanza carina quando fai i tronchi cioè gli fai queste specie di vedi vai a fare un tot di righe e gli sommi lasciando che quasi si intraveda il loro sovrapporsi poi ricordati di fare sempre più scuro il bordo di questo di questo tronco no in modo che sia ben compatto ok e quindi qua anche qua ti fai proprio questo tratto così e voilà le jesson fait ecco qua vedi così eccoci qua ci sei come sta andando con questa colorazione ovviamente anche il tronco come come tante altre cose quando disegni c'è questo rametto tu potresti aggiungerci degli altri colori per dare un po' più la sensazione che sia meno piatto quindi per esempio posso aggiungerci un grigio un grigio un po' più chiaro no vedi e ovviamente se se usi la matita non sfumata puoi fare questo tratto così in modo quasi che si veda che ci sono ci sono delle parti che che sono un po' diverse hanno delle colorazioni diverse quindi puoi fare proprio anche delle delle chiazzette vedi poi ti prendi invece proprio un colore più scuro un grigio molto scuro e ti fai queste specie di anche qua di chiazze per dare la sensazione poi volendo anche delle linee un pochino così perché sai che i rami hanno hanno realmente una ci sono degli alberi che hanno dei rami un po' più rugosi dipende ovviamente dal tipo di albero che stai guardando quindi in questo senso ti viene bene guardare un'immagine che è un po' reale poi ci aggiungo del marrone poi anche proprio esplorare il tema del ramo adesso il nostro focus è la civetta però e anche dare un contesto ecco vedi ora che abbiamo fatto questo io ti tolgo questa paletta di colori perché non non ci serve più vediamo se riesco a toglierla facciamo così non c'è più c'è ma non c'è c'è più ops aspetta ecco qua ecco praticamente adesso dobbiamo scegliere come fare il nostro interno il nostro interno del disegno ovviamente è notte quindi io immagino una cosa interessante siccome c'è la luna è proprio carino l'idea di tracciare anche forse qualche nuvola non so se tu molto leggera con la matita fai proprio anche qualche nuvola un po' così no quasi come se ci fosse una sì una notte con queste nuvole un po' misteriose quando metti nella notte le nuvole ok ora qua io mi prendo un po' un altro foglio ti fai il tuo cielo quindi prendi una bella matita io adesso prendo una matita un po' più spessa per fare questo questo passaggio in modo da dare questa lezione voglio dare la precedenza a fare la civetta però tu poi dopo con una matita molto leggera ti faccio vedere un trick di lasciare un po' di bianco intorno alla civetta questo dà un senso di come di è come se tu gli dessi un po' più di come se gli dessi un'aura come se gli dessi una una rilevanza al soggetto se gli lasci un po' di bianco poi vedi dove c'è la nuvola io lascio anche qua un po' di bianco faccio un cielo molto leggero con una specie di celeste e poi ovviamente me lo andrò a scurire però questa cosa avviene un po' alla volta vedi qua stiamo creando questo aspetto che ti stavo raccontando prima l'importanza di dare sempre un po' un contesto ai tuoi disegni cioè è comunque bello quando tu hai il tuo quaderno normalmente gli artisti cosa fanno hanno un quaderno dove fanno degli sketch fanno un po' delle prove studiano il soggetto anche prima di ritrarre prima di fare un quadro lo fanno anche singolarmente prendono magari la civetta e la fanno in tante posizioni diverse studiano studiano il soggetto poi quando lo realizzano normalmente questo disegno anche dell'animale è sempre collegato a un a un contesto quindi a una che può essere uno sfondo che può essere un paesaggio quello che vuoi tu però devi proprio scegliere dove vuoi posizionare questa civetta vedi in questo caso l'ho posizionata sul ramo e mi sono immaginata che lei sia proprio qua durante una notte di luna piena è un'immagine abbastanza evocativa perché la civetta è collegata alla notte la luna è collegata anche un po' l'aspetto misterioso se vogliamo della vita anche di notte quando vediamo la luna è magica ci fa pensare è magica perché ci illumina di notte anche gli alberi assumono delle ombre particolari e quindi io scelgo di dargli un po' questo contesto ok e quindi tu qua vai proprio sempre di più a scurire anche intorno alla luna adesso io lascio appositamente leggermente leggermente ops leggermente chiaro perché adesso ti faccio vedere un'altra cosa da fare io qua per esempio questa nuvola me la voglio fare così quindi qua io mi faccio una nuvola così e una nuvola così in modo che questa parte qua me la vado a proprio a fare così ecco vedi adesso qua mi scurisco un po' questa parte quindi allontanandomi dalla luna magari aumento l'intensità del mio blu no poi cosa facciamo prendiamo per esempio un azzurro no e allora io qua vado a fare intorno alla luna mi faccio questa specie di lucina azzurra come se la luna mi emanasse questa questa specie di luce particolare azzurrina allora vedi che è molto divertente giocare con i colori sperimenta io sto improvvisando non mi sono preparata a questo disegno prima quando disegni è sempre un po' una ricerca allora anche intorno alla civetta sinceramente decido di fare questa specie di piccolo riverberino azzurro che le conferisce una sorta di non lo so di di energia possiamo dire particolare ecco bene quindi qua ho fatto questa parte e ora mi posso proprio andare a scurire quindi posso prendere dei blu un po' più scuri e me li vado a posizionare me li vado a posizionare facendomi un pochetto trascinare anche dal mio gusto adesso che abbiamo fatto tutti questi passaggi allontanandomi dalla luna io posso cercare di creare queste specie di blu un po' più corposi anche perché la notte è blu ora quando c'è la luna piena forse il cielo ci sembra un po' meno scuro di quando non c'è una cosa importante ecco io adesso qua non l'ho messa ma quando tu fai un disegno così con le matite ti consiglio di mettere ai bordi uno scotch in modo tale che questa cosa qua che vedi non succede cioè rimani proprio ti rimane una cosa perfetta con lo scotch ecco vedi qua abbiamo fatto questi tratti eccolo qua facciamo un po' più scuro e qui abbiamo volendo potresti anche colorarti tutto col pennarello dietro fare tutto un fondo unito e poi per esempio questa luna la puoi fare proprio leggermente pallidina con questo giallino ti puoi colorare la luna vedi ti fai questo giallino un po' pallidino palliduccio e una volta che ti sei fatto fatta questo aspetto qua puoi anche fare le chiazze un pochino con un grigino molto molto chiaro per dare proprio la sensazione che questa luna ha le sue chiazzette vedi tic 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 tac ecco questo ci dà un po' di realismo alla luna ok ora se tu hai io non voglio andare tanto oltre se tu avessi per esempio un'uniposca bianco tu sopra al tuo disegno puoi fare per esempio le stelle molto carino anche questa cosa di andare proprio a posizionare con un iposca puoi fare dei piccoli puntini vedi e questo ti fa vedere che questa notte è stellata ora normalmente quando c'è la luna piena non si vede tanto la come si dice le stelle io qua mi aggiungo un po' di scusami mi aggiungo un po' di aggiungi un po' sta tavola mi aggiungo un po' di qua me lo faccio un po' più scuro perché sinceramente puoi anche prendere i pastelloni grossi per fare anche questi cieli ecco vedi lo voglio fare così perché mi risulta un po' più interessante ecco vedi tin 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 farlo un po' più scuro cioè non lasciare tutto sto azzurro ma farlo un pochino più scurello ecco questa così tin 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 e qua ci abbiamo le nostre nuvole ok questo sarebbe un po' il nostro disegno finito ora la cosa importante è che tu e quello che ti volevo un po' più dire in questa lezione sempre quando fai un tuo disegno devi mettere questi elementi adesso ti disegno qua così li sai che sono allora il nome il luogo e la data quindi te lo scrivo qua devi sempre un po' firmarli ok quindi metti il nome ovvero la firma tua il luogo cioè dove dove l'hai fatto oppure dove che è questa civetta che luogo in che luogo è e poi la data questo ti serve tantissimo anche per vedere le tue progressioni oppure se fai un diario di viaggio quindi per esempio il mio nickname è Arix io mi piazzerò qua poi normalmente io uso il rosso per fare la mia firma quindi puoi fare Arix e poi magari io ci metto che ne so qua ci metto Dolomiti mi immagino che l'ho fatta sulle Dolomiti Dolomiti e poi la data 7 7 2020 ora una cosa interessante oltre a questo potrebbe essere che tu vuoi dedicare questo disegno quindi si parla anche proprio della dedica che è una cosa molto bella è bello magari dedicarlo quindi dici a mio fratello per esempio qua con amore ecco no e quindi qua ti sei ti sei creato anche questa hai fatto anche la dedica questi sono gli elementi importanti ora non sono necessari vedete già ne sono necessari però sono importanti utili io ti invito a fare il tuo gufetto